La domanda che mi faccio ogni santo giorno, da un po' di giorni a questa parte, da un po' di settimane a questa parte è Ma tu avresti mai immaginato di vivere una situazione simile? Ovviamente la risposta è no. Presidente, Toastmaster of the Day, soci, ospiti. Quindi, viviamo tempi strani, per usare un eufemismo, e non so voi, ma io ormai vivo quasi giorno per giorno. In una sorta di bolla sospesa dovuta a questa quarantena, senza avere la più pallida idea di cosa succederà e di dove sto e di dove andrò a parare. Travolta poi, tra l'altro, anche da un fiume incessante di informazioni appena varco la soglia digitale del web. Tra social network, chat di WhatsApp, un po' meno le mail che chiaramente hanno un andamento più lento, che ricorda di più il nostro vecchio rapporto epistolare. E restare lucidi e focalizzati in una situazione del genere non è semplice. E non so voi, ma io negli ultimi tempi sto diventando sempre più intollerante a quei post o a quelle stories che io classifico con un po' di sarcasmo acido, motivazionali da sacchetto delle patatine. E do fuori di matto quando inciampo, come uso dire io, nelle famose fake news, le notizie farlocche, le ormai mitiche e mitologiche bufale. Ma in questi ultimi tempi, in queste ultime settimane, mi ritrovo anche ad avere più tempo per riflettere. Quel tempo che si è riconfigurato da quando non vado più dal punto A al punto B alla mattina e dal punto B al punto A alla sera. E durante queste riflessioni, in questo tempo sospeso, mi sono venute in mente due opere della nostra letteratura. Da un lato, Il principe di Machiavelli. E mi è venuto in mente quando ho ripensato alla metafora della volpe e del leone legata alla gestione del potere. Ma questo è un altro discorso e usciamo altrimenti dal seminato. L'altro è proprio il Decameron. La novella, il gruppo di novelle, è scritto da Boccaccio, proprio ambientato in un momento durante la peste di Firenze, nel quale, durante il quale, alcuni giovani si rifugiarono in quarantena in campagna e si raccontarono storie. E quindi un Decameron anche 4.0. Perché 4.0? Perché vado a mutuare questo codice numerico dal mondo dell'informatica che poi è stato utilizzato anche in altre aree della nostra vita, come può essere l'industria, la scuola, la sanità, eccetera, eccetera. Perché la tecnologia ci sta venendo in aiuto in questo Decameron. Noi continuiamo a pubblicare e narrare storie, condividendole con i nostri contatti, con diversi mezzi, con i diversi mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione. E questo, in questa narrazione che abbiamo, che stiamo vivendo e del quale siamo anche artefici, non siamo solo passivi, ma siamo anche parte attiva, mi ha fatto tornare in mente una bella, non metafora, ma una similitudine che Roberto Cotroneo ha scritto nel suo libro Il sogno di scrivere. Un libro molto bello che vi consiglio di leggere, l'ho letto qualche anno fa. Roberto Cotroneo è un giornalista editorialista, mi pare, del Corriere della Sera. E Cotroneo, a un certo punto nel suo libro, usa una similitudine che mi ha affascinato, mi ha colpito e mi ricordo ancora a distanza di qualche anno. Il nostro atto dello scrivere e del condividere sui social network è un atto di scrittura ed è come se stessimo scrivendo il più grande romanzo collettivo della storia dell'uomo. E se ci pensate, in effetti è così. Stiamo partecipando a un'opera collettiva di ampio respiro, condividendo le nostre storie, condividendo le nostre immagini, condividendo i contenuti che ci hanno affascinato. E questa condivisione, che non è che facciamo da oggi, ma ormai la facciamo da diversi anni, è diventata molto più intensa in questo periodo, proprio per colmare quella separazione fisica che ci tiene ognuno chiuso nelle nostre case. E proprio questa intensificazione di condivisione, secondo me, ci deve portare a un livello diverso, nel quale operiamo una sorta di atto di consapevolezza e di cura. Consapevolezza nella comprensione di ciò che andiamo a condividere, che può essere un passo per tornare a quell'approfondimento che nel corso di questi ultimi anni abbiamo perso, correndo dietro a un flusso velocissimo di informazioni e correndo dietro a quelle maledette, nefaste informazioni che vengono generate dai famosi titoli click-byte. E nel contempo cura. La cura che viene dalla consapevolezza e dall'approfondimento, cura nelle parole che andiamo a utilizzare e a scrivere, cura nelle immagini che andiamo a condividere, cura nelle informazioni che andiamo a condividere. Consapevolezza e cura. Due variabili che io penso siano diventate molto importanti, ancora più importanti in questi ultimi tempi e che possono portarci a una maggiore profondità e serietà, che non vuol dire seriosità. Infatti, secondo me, un'altra variabile che in questi giorni, in questo periodo, dobbiamo assolutamente tenere in conto è la leggerezza di calviniana memoria. Quella leggerezza che ci permette comunque di continuare a raccontare con consapevolezza e cura e partecipare al grande romanzo collettivo che stiamo scrivendo nella storia dell'umanità. Toastmaster of the day.